benvenuti a tutti in un nuovo video in questo video andiamo a vedere una macchina che da noi non esiste che prodotta e venduta in cina questa macchina è stato molto scalpore in quanto è la coppia spudorata della Land Rover Evoque questa macchina si chiama Land Wind x7 è stata presentata al salone dell'auto cinese nel novembre 2014 e subito ha avuto una causa legale dalla società che fa capo a Jaguar Land Rover in questi giorni si è avuta la sentenza che condanna a pagare una multa per violazione di brevetti alla Land Wind questa macchina nel dettaglio è fornita con due motori si può scegliere un 2000 benzina d'origine mitsubishi da 190 cavalli oppure un 1500 in grado di sviluppare 150 cavalli entrambi i motori sono a trazione anteriore hanno una trasmissione automatica 8 rapporti e questa lettura comunque è abbastanza leggera in quanto a vuoto pesa 1775 kg le dimensioni esterne sono da SUV è un 4.4 metri larga 1.9 e alta 1.6 il passo è 2,6 metri questa vettura che come vedete è veramente molto simile anche internamente alla Land Rover è proposta a partire da 13 mila euro rispetto alle voque sono 40 mila euro meno più o meno come dotazione di serie abbiamo i fari con tecnologia led tettuccio panoramico dispositivi per l'info entertainment quello che vedete adesso nel video quindi una radio con la connessione usb mp3 bluetooth e il navigatore gps che però va acquistato a parte tre dispositivi di assistenza alla guida sempre di serie abbiamo il crash control l'abs la telecamera posteriore sistema antifurto antifurto e il backup radar a cui si aggiungono gli abeg il doppio davanti e invece quelli laterali non sono in dotazione su quelle su quello base la bellezza